In questa pagina vi raccontiamo una storia meravigliosa, è una storia di grande amore e di grande fede. Vi porto indietro ad un anno fa, 2 dicembre del 2018 a Lima, siamo in Perù, muore padre Ugo Decensi. Padre Ugo Decensi era un sacerdote italiano, era un salesiano, fondatore insieme ad altri di quella grande operazione che si chiama Operazione Mato Grosso, che da 50 anni opera in America Latina coinvolgendo tantissimi giovani italiani, migliaia di giovani italiani. Per oltre 40 anni padre Ugo ha vissuto in Perù, seminandolo vedrete amore, speranza e futuro, amore, speranza e futuro. La sua morte è stata celebrata dai peruviani come la morte di un santo in terra. Il corteo funebre ha viaggiato per tre giorni per raggiungere il paese di Ciacas, 3.400 metri d'altezza, nella cordigliera Bianca, Blanca scusatemi, dove padre Ugo aveva vissuto per tanto tempo, dove desiderava essere sepolto. Allora vi prego, guardate con noi, con commozione, forza e fede, queste immagini. vi app con noi, nostro compagnie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tornare bambino, regalare, alzare la testa e dire mio Dio, mio Signore, mio Signore, mio Dio. Vorrei dirti che ti amo. Ti desidero, ti desidero, ti desidero. Grazie a tutti. Non posso fermare le lacrime di Cristina Adua, che ci sono, perché è giusto che ci siano. Fabrizio Mantovani, grazie di essere con noi. Sono due volontari dell'operazione Mato Grosso. Allora, Cristina, ben arrivata. Grazie di essere con noi. Non dica scusate perché proprio no. Grazie a lei. Come ha conosciuto lei questo uomo straordinario? Io l'ho conosciuto nell'81. Venivo dal Brasile, stavo facendo quattro mesi in missione. I quattro mesi sono la prima tappa che ogni ragazzo dell'operazione Mato Grosso, se vuole, fa. Dopo aver vissuto in gruppo, aver lavorato in gruppo, può nascere questo desiderio di fare un'esperienza in missione. Io ero in Brasile, in Mato Grosso, in un lebrosario. E eccoci qua. Siamo a Ciacas, nella cucina di Ciacas. È un Natale, il primo Natale fatto a Ciacas. Io arrivai dopo un viaggio di sette giorni e sette notti, venendo dal Brasile, perché all'epoca non si viaggiava in treno. Era l'81, appunto, quindi si andava in autobus. Dopo sette giorni e sette notti arrivai a Ciacas, perché c'era un altro volontario del mio gruppo che io andavo a trovare. Il padre Giorgio Nonni, che non era ancora padre e che è morto di recente. E arrivai a Ciacas e dissi non ci tornerò mai più, che ci sono venuta a fare in questo posto. No, già lei, mi scusi, già lei parte. Possiamo entrare? Grazie Stefano, come sempre. Con un fazzolettino. Ecco qua. Già lei parte come ragazza, cioè io andavo, ero in un lebrosario. Ah, proprio nata cattiva lei. Proprio nata con l'intenzione di ledere al resto del mondo. Già siete ragazzi speciali, diciamola questa cosa, con un cuore aperto alla sofferenza degli altri. Ma però eravamo tutti ragazzi normali, come Fabrizio, come eravamo ragazzi normali. Vabbè, quanto vorrei essere stata una ragazza normale come voi. E quindi, insomma, lei ha detto, io qui non ci metterò mai più piede. Mai più piede. Arriviamo Fabrizio, arriviamo anche da lei. Ce n'è anche per lei, si fide. E lì ho conosciuto il padre Ugo. E com'era? Era la prima volta che io lo vedevo. Com'era? Beh, per me fu una figura affascinante. Io conoscevo il Mato Grosso da quattro anni, però ci eravamo incontrati così, un po' di striscio in Italia, ma non avevo mai vissuto insieme a lui in casa. Lei ha fatto esperienza con suo marito Mario, con la sua prima figlia Daniela, vostra figlia, di appena cinque mesi, sempre in missione in Perù. Lì. Cioè, un anno dopo io sono tornata a Ciacacca. Lì dove non doveva tornare, è sempre così. Mi aiuti a capire, Cristina, che cosa fanno, che cosa facciano in concreto queste missioni? Tante cose. Diciamo che la cosa prevalente è l'aspetto educativo. Cioè, in quasi tutte le missioni ci sono scuole, asili, scuole professionali, rivolte ai bambini, ai ragazzi più poveri. In particolare, lì a Ciacacca c'è da tanti anni una scuola professionale di falegnameria, quello che noi chiamiamo il taglier, vorrebbe dire il laboratorio in spagnolo. Poi i ragazzi da lì passano, se vogliono, in cooperativa. Cioè, si riuniscono in cooperativa e continuano a lavorare. Ciacacca era un paese che stava morendo sulle Ande, c'era stato un grande terremoto, l'aveva parzialmente distrutto. L'arrivo di Padre Ugo lo ha fatto rivivere. Se lei adesso va a Ciacacca, ha cambiato completamente faccia dall'81-82, quando ci siamo stati noi. Sembra un po' una metropoli sulle Ande, adesso senza esagerare. Però è pieno di vita, è pieno di lavoro. È pieno di lavoro, lei ha detto la parola più importante. Allora, Don Ugo era chiamato il Don Bosco delle Ande. E voi sapete che quando citiamo Don Bosco sappiamo che cosa... Don Bosco e i Salesiani nel mondo significhino insegnare a intagliare il legno, e lo vedremo più tardi, insegnare a fare i mosaici, insegnare a lavorare, insegnare a non essere schiavi della povertà. Perché se crei un lavoro, se crei la professionalità, quella professionalità paga. Quando Papa Francesco è andato in Perù, che cosa è successo? Che si è seduto sul seggiolone costruito e intagliato dai ragazzi. E quindi tutti i ragazzi sono andati a Lima. C'è stato l'incontro tra Padre Ugo e il Papa Francesco. L'aveva già incontrato qui in Italia. Quindi sicuramente è stato l'incontro... Fabrizio, 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 grazie. Grazie Fabrizio. Intanto quanti anni ha lei? 26. 26, complimenti. Che cosa fa lei nell'operazione Mato Grosso? Faccio, come tutti gli altri ragazzi, l'operazione Mato Grosso gruppo. In Italia si dice facciamo gruppo. Quindi c'è la parte dell'operazione Mato Grosso in missione, quella che diceva lei, e quella dell'Italia è di lavorare con i ragazzi. Si fanno varie attività, sgomberi, traslochi, imbiancature, tutti quei ragazzi giovani, quindi delle superiori. E tutto il ricavato, tutte le offerte che ci danno le persone che ci danno i lavori, vengono mandate in missione, sostengono le missioni. Dunque Mato Grosso è presente in 60 comunità in Peru, 17 in Ecuador, 10 in Bolivia, 12 in Brasile. L'Italia opera e lavora per portare denaro, per portare aiuto, sostegno a tutto Mato Grosso nel mondo. E lei come si è avvicinato a questa associazione? Per puro caso in realtà, perché uno dei lavori che si fanno di solito sono i traslochi, i miei genitori dovevano fare il trasloco, quindi a casa mia hanno fatto il trasloco i ragazzi dell'operazione Mato Grosso, io li ho conosciuti così. E lei che è cattivo d'animo, perché si vede proprio un animo, ha detto, sai che cosa faccio io adesso? Do una mano e mi metto anch'io la mano. Quanto è carino, glielo posso dire. Ma che tenero che è, mi sorrida. Campi di volontariato, insomma vi chiamano per fare tanti lavori. Tanti lavori. Durante la settimana i gruppi si trovano uno o due volte per lavorare sempre. E nei weekend o durante le vacanze estive o invernali, quando magari un gruppo ha tanti lavori o quando c'è un lavoro grosso da fare, si chiamano vari amici dal resto dell'Italia e si fanno i campi di lavoro. Proviamo ad immaginare che ci sia in questo momento qualcuno che non conosca la vostra attività. Come faccio io a chiamare? Devo far raccogliere tutti i miei olivi, insomma bisogna fare le olive. Come faccio a chiamare Mato Grosso e a darvi una mano? Di solito funziona per il passaparola. Cioè solitamente le persone che ci chiamano per fare queste attività arrivano per passaparola. E solitamente così ci sono alcuni numeri su internet. Però solitamente sì. Mi piacerebbe ora essere un pappagallo e fare Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Passaparola, passaparola, passaparola. Perché è questo che dobbiamo fare. Voi lavorate nel nome e per conto anche di quest'uomo. Perché è quest'uomo che vogliamo ricordare. Ci sono delle immagini bellissime raccolte pochi giorni fa, proprio nel primo anniversario della morte su questa terra e dell'aver aperto gli occhi alla luce di quest'uomo meraviglioso, di quest'uomo che ha insegnato oltre alla fede il rispetto per se stessi. Perché io credo che Mato Grosso sia anche questo, no? Certo. I ragazzi imparano proprio a guardare la vita con altri occhi, credo. Cioè a non guardare solo se stessi, ma voltandosi indietro si impara a guardare la propria vita con altri occhi. E bisogna fare in modo che i poveri non siano poveri. O perlomeno che ognuno di noi è anche i poveri. È lo stesso messaggio che il padre Ugo dava in Italia, lo ha dato in missione. Cioè nessuno è così povero che non possa fare qualcosa per gli altri, no? Ed è così. Fabrizio, gli ultimi campi ai quali lei ha partecipato? Proprio se me ne deve citare uno o due. In Valtellina, alcuni campi a Roma quest'estate. Dipende, ci sono campi ogni weekend praticamente. Allora, questa notizia è una notizia prettamente romana, ma se abitate a Milano o abitate a Potenza o abitate a Messina o abitate altrove, nel frattempo queste immagini, grazie ancora, sono quelle di pochi giorni fa, così è stato ricordato padre Ugo nel primo anniversario, lo dicevamo un istante fa, una folla, un mare di persone. Allora, romani, che detto così, mi raccomando, verranno nei prossimi giorni dei ragazzi, passando prima magari per le parrocchie, lo saprete dalla vostra parrocchia, a bussare per fare una raccolta alimentare? Una raccolta viveri. Raccolta viveri. Sì, la faremo appunto questo weekend, il 7 e l'8, e la faremo in realtà in due zone, alcuni supermercati e in due zone di Roma. Quali? Garbatella e Testaccio faremo. Ah. Per intanto, poi se ne farà un'altra... Andate a bussare porta a porta? Sì, sì, c'è la parte dei supermercati, quindi saremo lì a dare il volantino e il sacchetto, e poi il grosso del lavoro poi è porta a porta, quindi andare a suonare ogni campanello e chiedere se... Mi chiedevo poco fa perché suonare ogni campanello se si può fare raccolta nei supermercati, invece il valore è anche quello del saper chiedere, no? Sì, 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 poi nell'operazione Mato Grosso è così, e poi può metterci la propria fatica, cioè anche tanti dei lavori che facciamo. Bravo. Comunque, di fatto, a fine dicembre saremo tutti in Calabria per raccogliere le arance, ma a Garbatella e a Testaccio Roma mi raccomando andare a fare la spesa e riempire la busta che poi vi consegniamo, oppure aprire la porta di casa e consegnare quello che può essere un chilo di sale, lo zucchero, le lenticchie, la pasta. Sì, sì, generi a lunga conservazione, e comunque tutto quanto ha un valore enorme, nel senso che comprare giù la roba costa tantissimo, e invece riempire un container e mandarlo, e spedirlo, un aiuto concreto che si può fare da qui, e comunque costa molto meno che dover spendere i soldi che guadagnano i ragazzi dei gruppi e comprarli giù. Certo. Un grande aiuto. TV2000 ha raccontato Mato Grosso e continuerà a farlo, tante e tante volte. di padre Ugo, beh, insomma, ci si aspetta, no? Si aspettano bellissime notizie, sapendo che c'è un modo di dire, che mi piace sempre tanto citare, quando dicono che una persona sia andata direttamente, proprio, dritta filata in paradiso, non si è cambiato d'abito. Va bene che lui aveva l'abito da sacerdote, però che sacerdote, non ha dovuto proprio, credo, presentare altro che se stesso, no? Questo bellissimo, questa immagine che è un mosaico ha una sua storia, vero? Sì, che in parte nemmeno noi conoscevamo. È stato fatto da un ragazzo della scuola di mosaico che lo stava facendo in prossimità della morte, diciamo, del padre Ugo e quando ha messo l'ultima tesserina si è spento il padre Ugo. Io non so che cosa abbia ispirato questo ragazzo, però a me è sempre sembrato che in ogni tesserina ci fosse un po' ognuno di noi. Cioè, tutte le vite che si sono intrecciate con le vite del padre Ugo è come se fossero tutte le tesserine che hanno composto questo mosaico di questa vita che è stata una vita, ma sono state tante vite. Prima qui in Italia, poi in missione, poi a Ciacas, poi a Lima, e proprio tante vite. La nostra vita è un mosaico e quando incontri un artista che sappia insegnarti come si faccia a vivere, come è stato nella fede, padre Ugo, il mosaico viene bellissimo. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Ci vediamo domani alle ore 14, la recita della coroncina e alla Divina Misericordia ora. Grazie a tutti, davvero grazie. Operazione Mato Grosso, mi raccomando, a Roma e ovunque in Italia aiutiamoli. Grazie. 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 Bravi. Bravi. Grazie. Grazie.